Nei piani di governo la parte della competitività digitale è un punto molto importante, è uno dei quattro pilastri che portano avanti la strategia digitale, è un po' il motore, il motore di un'innovazione di cui il paese ha bisogno in questo momento di trasformazione digitale. Quindi oggi questa iniziativa, anche in ricordo di Enrico che faceva degli obiettivi comuni un po' anche il suo lavoro quotidiano, andiamo proprio ad analizzare il grande tema dell'open innovation che è il come le start up innovative, come la trasformazione digitale può aiutare anche i mercati più maturi a trasformarsi. Quindi è da seguire un trend, un'impegnata tecnologica che ci deve trovare assolutamente preparati. Oggi quindi è un momento molto importante per parlare di start up, innovazione e soprattutto di futuro perché è dalla visione del futuro e di come interpretarlo che uscirà un po' il piano di occupazione e crescita per l'Italia.